Criteri di scelta per l'installazione, costo totale, effettiva necessità di un quantitativo così importante. Queste le domande presentate da Gianguido D'Alberto, capogruppo del Partito Democratico di Teramo, in relazione all'annuncio fatto dalla Teramo Ambiente di posizionare 58 telecamere nel cimitero di Cartecchio. La perplessità principale riguarda il totale silenzio sui costi, presumibilmente alti, per cui il consigliere D'Alberto ha avanzato alla Team formale richiesta di accesso agli atti per conoscere l'intero progetto. Un intervento che ci sembra decisamente imponente perché 58 telecamere soltanto nella parte nuova del cimitero ci sembra una questione che merita sicuramente un'attenta riflessione, perché noi abbiamo chiesto proprio questo in una situazione in epoca di spending review, quindi in una situazione in cui bisogna essere attenti sui conti pubblici e anche delle società partecipate, noi chiediamo appunto di capire quali sono anche i costi e le ragioni di questo intervento considerando che non comprendiamo come possa essere limitato soltanto alla parte nuova del cimitero e non alla parte vecchia e soprattutto perché non sia valutato il problema di sicurezza anche nei cimiteri frazionali che vivono in una situazione indecorosa di degrado in assenza di manutenzione che è assolutamente inaccettabile. Noi comprendiamo e condividiamo comunque che si debba garantire la sicurezza all'interno del cimitero però anche e soprattutto per tutelare il patrimonio all'interno del cimitero urbano. Però questo intervento ci sembra, almeno così come è stato presentato, giustamente sproporzionato anche considerando quello che è il numero dei luoghi sensibili della città che sono oggi totalmente privi di controllo e sicurezza. E consideriamo anche un'altra cosa, i cittadini terramani hanno il diritto di conoscere come vengono utilizzati i loro soldi anche per quanto riguarda la questione dei cimiteri. Non dimentichiamo che i cittadini terramani all'atto di concessione dei loculi pagano per 40 anni la manutenzione quando la società che gestisce il servizio ha la gestione per 15 anni.